Massimo Parente, questo è un motivo importante se non fondamentale per aiutare chi ha bisogno. Ricordiamo le due partite interne che restano da qui alla fine dell'anno solare, il 2013. Pescara-Padova in programma venerdì alle 21 e poi Pescara-Empoli domenica 29 dicembre con inizio alle 15. Che cosa succederà? Spieghiamo un po' l'evento e soprattutto spieghiamo l'iniziativa, visto che la Pescara ha dimostrato ancora una volta di essere sensibili a certe problematiche. È il terzo anno che la Pescara Calcio con il suo presidente, con Daniele Sebastiani e con tutti gli altri ci è vicina. Quest'anno appena ho prospettato questo progetto, la realizzazione di un day hospital per i piccoli pazienti oncoematologici si è reso subito disponibile ed ecco allora che parte degli introiti di queste due partite andranno ad essere utilizzate appunto per approntare nel più breve tempo possibile questo nuovo day hospital dei bambini. Una cosa molto seria, vedrà uno spazio dedicato esclusivamente a loro e non più nella promiscuità. Un segnale di rispetto non soltanto per i bambini ma anche per gli stessi adulti. Non è retorica quando si dice che chi andrà allo stadio in queste due partite, in occasione di queste due partite interne del Pescara abbinerà soprattutto l'utile al dilettevole? C'è un riscontro che è molto chiaro, io ringrazio la Pescara Calcio ma devo ringraziare anche tutti i tifosi che parteciperanno a queste due partite perché è grazie alla loro presenza, a corposa presenza che noi potremo avere quell'introito che ci occorrerà per poter terminare questo progetto. Ricordiamo Massimo Parenti, presidente dell'Agbe, associazione dei genitori e bambini emopatici che dispiega la sua attività da quanto tempo? Sono ormai 15 anni, mi permetto di rubarti 30 secondi soltanto per un piccolo chiamiamolo annuncio. Purtroppo questo è un periodo di festività e riscontriamo presso le uscite fuori degli ipermercati personaggi che chiedono soldi nell'interesse di bambini malati. Vi chiedo, controllate bene, per carità ognuno è libero di muoversi come vuole, però sapere che personaggi che non sono neanche abruzzesi vengono qui e non si sa dove devono portare questi soldi, ci dispiace un pochettino perché noi dalla mattina alla sera, noi associazioni abruzzese, lottiamo tanto per poter avere un piccolo spazio. Questo è sciacallaggio? Non mi posso permettere di dirlo, ma sicuramente fa male al cuore vedere queste persone che vengono, prendono soldi dicendo che lo stanno facendo per i bambini dell'ospedale di Pescara.